Penultimo intervento, Simonetta Rossi da oltre 25 anni lavora nel settore chimico della produzione dei materiali per l'edilizia e dal 2017 è manager oltre che direttore marketing di Polyglas che è un'azienda del gruppo MAPEI, il gruppo MAPEI immagino che almeno l'abbiate sentito nominare e produce sistemi impermeabilizzanti, poi magari capiremo un po' meglio da lei di che cosa si tratta perché sono cose un po' complicate ma che sono utili nella vita di tutti i giorni. A lei la parola e a voi buon ascolto. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, complimenti intanto, visto che io sono anche mamma di una generazione come la vostra, ai vostri insegnanti che vi danno queste opportunità. Io volevo anche ringraziare Carta Carbone e il campus di Ca' Foscari perché il fatto di essere qua oggi rappresenta per noi anche un'opportunità per condividere anche in parte quelle che sono le strategie e i percorsi che anche noi come azienda manifatturiera sul territorio stiamo cercando di portare avanti non solo da poco, non solo perché oggi si sente molto a parlare di sostenibilità ma perché, come vedremo e come vi racconterò, fa parte un po' del nostro DNA, sia come azienda sia come gruppo che oggi qua rappresento. Per questo volevo iniziare il mio breve intervento con una breve soluzione. Non vi racconto chi è il gruppo MAPEI perché è abbastanza noto, però vi racconto la filosofia e il DNA del gruppo MAPEI e della proprietà. Io oggi ho sentito parlare e mi ha fatto anche molto piacere poter riascoltare alcuni passaggi del tema sostenibilità e degli studi che sono stati fatti nel corso di questi anni. Il tema è molto ampio, è nato proprio un glossario della sostenibilità che io stessa come generazione, ahimè, boomers, ho dovuto studiare negli anni proprio per poter appropriarmene e poter trasferire certi tipi di valori e di azioni nell'azienda in cui lavoro. Dicevo, il gruppo MAPEI che io oggi qui rappresento e di cui sono molto orgogliosa di rappresentare in particolare anche per una visione che secondo me ha avuta molti anni fa quando ancora non si sentiva parlare così tanto di sostenibilità. Il gruppo ha introdotto il bilancio di sostenibilità di cui avete sentito parlare molto sinteticamente, è un documento nel quale l'azienda dichiara cosa sta facendo in termini di sostenibilità con tanto di informazioni, di dati e soprattutto di numeri. Quindi non stiamo parlando di dichiarazioni di valori che si vogliono perseguire o comunque non solo quello, ma stiamo anche parlando di numeri con i quali evidenzia come e in che tempi li sta raggiungendo. Dicevo, il gruppo ha introdotto il bilancio di sostenibilità penso circa una decina di anni fa quando non era ancora sostenibile, perché il nostro gruppo non è sostenibile neanche ancora oggi, a partire dal prossimo anno invece sì e a partire da quest'anno in particolare il gruppo MAPEI ha completato questo tipo di documento per tutte le società presenti e appartenenti del gruppo a livello mondiale. Stiamo parlando di una società multinazionale con DNA completamente italiano, altro fattore secondo me di orgoglio, perché la proprietà è ancora appartenente alla famiglia Squinzi, che forse avete sentito nominare. Quindi è un gruppo che è rimasto nel DNA e nella proprietà completamente italiano, ma che oggi ha raggiunto una presenza a livello internazionale, a livello mondiale, con un fatturato che supera ormai 4 miliardi. Bene, arriviamo a parlare invece di MAPEI, che io invece qui rappresento, scusate, di Polyglass che io qui rappresento. Probabilmente nessuno di voi l'ha sentita nominare, come così probabilmente non sapete neanche cosa è una membrana bituminosa, immagino. Neanche io lo sapevo fino a qualche anno fa, quando ho cominciato a lavorare per l'azienda, nonostante opero e lavoro nel settore delle costruzioni da diversi anni. Allora, chi siamo intanto? Allora, Polyglass ha sede a Ponte di Piave, quindi vicino a Oderso, ed è anche la sede principale del gruppo. È un'azienda che ha la sede, lo stabilimento a Ponte di Piave. Produciamo membrane bituminose, manti sintetici e altri prodotti complementari per l'impermeabilizzazione. Noi oggi siamo qua e stiamo bene, non piove fuori, quindi va tutto bene. Però se dovesse piovere e dovesse entrare da qualche parte qualche goccina d'acqua, vuol dire che il tipo di impermeabilizzazione, qualsiasi prodotto sia stato utilizzato, sicuramente non è Polyglass, se no sarebbe perfetto, vuol dire che in questo caso l'impermeabilizzazione che è stata realizzata sulla copertura non è stata fatta bene. Tutte le nostre coperture, che siano in edifici privati dove abitiamo, piuttosto che edifici industriali e commerciali, prevedono tra i vari materiali delle costruzioni anche un sistema cosiddetto impermeabile. Ci sono diverse tecnologie, noi siamo specializzati nella produzione dei manti bituminosi e dei manti sintetici, di cui vi racconterò molto brevemente di cosa si tratta. Siamo entrati a far parte del gruppo Mappei nel 2008, era un'azienda a tutti gli effetti familiare che è stata costituita intorno agli anni 60, grazie, anche qua secondo me è sempre una storia di successo, grazie all'intuizione di una famiglia di Negrisia, non so se conoscete un po' i paesi, che era una famiglia povera, era una famiglia di agricoltori con nove figli, che però capirono ed era un momento storico particolare dal punto di vista della chimica, delle invenzioni e quant'altro, capirono che stava nascendo un'opportunità di mercato proprio nel settore delle impermeabilizzazioni. Perché stava nascendo questa opportunità? Ve lo racconto proprio perché diventa dal mio punto di vista un po' una caratteristica peculiare del settore delle membrane bituminose che oggi qui rappresento. Abbiamo sentito parlare di economia circolare, quindi il fatto che vai a riutilizzare un prodotto di scarto, un prodotto di rifiuto nel tuo ciclo produttivo. Il settore, il segmento della produzione delle membrane bituminose è nato proprio in questa maniera, senza esserne consapevoli, perché allora, negli anni 50, non si parlava di economia circolare, non sapevamo neanche di cosa fosse. Il settore delle membrane bituminose è nato perché a fronte di un momento storico unico, direi, negli anni 50 è stata inventata la plastica. Dicevo, in questo periodo è stato inventato un processo produttivo per la produzione del polipropilene isotattico, che è una materia prima utilizzata appunto per fare la plastica, e nel processo produttivo c'era uno scarto, uno scarto che anche smaltirlo, anche allora, sarebbe stato un problema. Bene, la grossa innovazione che c'è stata per il settore delle membrane bituminose, perché poi ha dato il via proprio a una nuova tecnologia di membrane bituminose, è stato visto che questo tipo di scarto, che difficilmente sarebbe stato possibile smaltire, dava delle caratteristiche al bitume, che rappresenta il 50%, quasi tutt'ora oggi, della materia prima utilizzata nella formulazione di una membrana poi fabbricata, il bitume otteneva delle caratteristiche prestazionali migliorative. Da quella scoperta, dagli anni 60, il nostro distretto, il Triveneto, è diventato un distretto di riferimento, perché i principali produttori e i nostri concorrenti nel settore delle membrane bituminose, guarda caso, si trovano nella nostra area, nella nostra regione, nel nostro Triveneto. Poi alcuni si sono, diciamo, dislocati anche in altre regioni d'Italia, però il distretto Veneto, proprio per quello che vi ho detto, è partita un po' con la storia della nostra azienda e con alcuni fuoriusciti allora dal nostro gruppo, è diventato un distretto vero e proprio industriale specializzato anche nella produzione di membrane bituminose. Oggi Polyglas cosa sta facendo, come siamo organizzati, dove operiamo? Noi abbiamo lo stabilimento produttivo a Ponte di Piave e con lo stabilimento copriamo tutta la parte, diciamo, europea del nostro mercato. Noi siamo presenti in Italia, abbiamo una rete commerciale anche sull'export. Poi, fin da allora, fin dagli inizi, fin dagli anni Sessanta, una parte, diciamo, della generazione, della famiglia che aveva fondato il gruppo, capì subito che c'era uno sbocco internazionale per questo tipo di settore e quindi fin dagli anni Sessanta, dagli anni anni Sessanta, una parte della famiglia si trasferì negli Stati Uniti, in particolare nell'area del Nevada e cominciarono un po' alla volta ad avviare anche là la produzione delle membrane bituminose. Non fu subito un successo, anzi, però tenelo duro e oggi il gruppo a livello Stati Uniti, perché come vedete dalla mappa che non state vedendo, ma sto vedendo io, dicevo, abbiamo cominciato con uno stabilimento. Oggi la Polygas negli Stati Uniti ha sei stabilimenti produttivi che coprono da est a ovest tutta la fascia degli Stati Uniti ed è diventato il mercato principale di sbocco della produzione delle membrane bituminose di vario tipo, diciamo che sono partiti con le stesse tecnologie che utilizziamo qua in Italia per poi sviluppare ovviamente una tipologia di materiali più in linea con quelle che sono le caratteristiche peculiari del settore edilizio del mercato statunitense. Quali sono i nostri prodotti? Giusto per arrivare un po' a concludere questa breve introduzione, vi parlavo di membrane le bituminose sono queste, parliamo di rotoli, rotoli neri, altezza a un metro, che poi però hanno una lunghezza di 10 metri e vengono appunto srotolati e applicati sui nostri tetti, sulle nostre coperture. Ci sono diverse tipologie, con diverse caratteristiche, con diverse prestazioni, sono materiali che vengono applicati a fiamma oppure autoadesivi. Questa è una tecnologia, questa che stiamo vedendo è un'altra che è sempre prodotta presso i nostri stabilimenti, che è quella rappresentata dai manti sintetici, non sto a entrare in dettaglio, si tratta di due tipologie di materiali diversi che oltre ad avere prestazioni diverse rispondono di più a determinati tipi di campi applicativi. Per farvi vedere qualche esempio di campo di applicazione, ecco vedete banalmente i sistemi impermeabili oltre che sui nostri tetti vengono utilizzati anche per impermeabilizzare ad esempio bacini per innevamento, vasca di depurazione oppure andando avanti tutto quello che è coperture. Tipicamente il nostro mercato di riferimento sono appunto i capannoni industriali, le aree logistiche, parliamo di grandi superfici, quindi qui come vedete anche gli stessi condomini molte volte appunto hanno delle superfici piane che vengono rivestite con dei sistemi impermeabili dove poi sopra possono essere aree pedonabili, si possono creare aree di green roof e di tetti verdi che oggi hanno molto diciamo un apprezzamento anche da un punto di vista architettonico o semplicemente vengono utilizzati per tutti i vari impianti di condizionamento. Bene, questo vi fa capire che a differenza anche di quello che abbiamo sentito prima qual è il nostro mercato di riferimento, noi non vendiamo al consumatore privato come dico io non vendiamo alla signora Maria con tutti i rispetto per il signore Maria che ci possono essere qua, ma vendiamo alle imprese, imprese che possono essere imprese applicatrici, gruppi di rivenditori, però imprese. Quindi parlare di sostenibilità, comunicare la sostenibilità, essere oggettivi da un punto di vista di sostenibilità per noi è una sfida molto importante, ma lo è ancora di più riuscire a far percepire il beneficio di collaborare, di avvalersi di una società che cerca di investire nella sostenibilità anche attraverso dei prodotti e poi vedremo come, e riuscire a far trasferire al cliente finale quale è il vantaggio di utilizzare prodotti sostenibili, cercando di non rischiare di cadere nei famosi discorsi di greenwashing, cioè di parlare green, vestirsi di verde, parlare di sostenibilità insensolate, come diceva prima il collega, sì perché hai usato le macchine che invece adesso utilizzano metano. Quindi il nostro obiettivo come Polygas è quello di raccontarvi adesso qua, con delle piccole pillole di sostenibilità come le chiamo io, il percorso che stiamo cercando di fare. Un percorso che è iniziato, come ho detto all'inizio, da un DNA, in quanto la membrana bituminosa è nata dall'utilizzo di uno scarto, un percorso che stiamo facendo da anni anche come produttori. Le nostre membrane che sono composte a strati, ad esempio, hanno sempre, dico sempre, fin dall'inizio utilizzato una tipologia di armatura che serve per tenere assieme il bitume e il polimero, che non è altro che un tipo di materia prima che deriva dalla lavorazione post-consuming delle bottiglie di plastica, quindi al 100% materiale riciclato. Ma sapete qual è il colmo? Che noi, fino a qualche anno fa, tutti noi produttori, questo era un aspetto che non mettavamo assolutamente risalto in nessuna comunicazione dei nostri materiali. Perché? Perché c'era l'idea, la mentalità che se tu utilizzi nella tua produzione materiale riciclato, non garantisci una stabile qualità del prodotto. Cioè, per assurdo, fino a qualche anno fa, una produzione tipica, una produzione tradizionale, perché tutti i nostri produttori utilizzano le stesse materie prime, quindi sono tutti uguali, nessuno di noi osava dichiarare, in nessun documento, che il prodotto aveva materie prime riciclate. Quello che oggi è diventato invece un aspetto da mettere in evidenza, noi non potevamo farlo proprio per una consuetudine di mercato, del mercato nostro. Bene, abbiamo parlato e sentito parlare dai colleghi prima che il concetto di sostenibilità è molto ampio. Avete visto quegli obiettivi, 17 obiettivi o ISG, che magari a molti, sì, l'avranno visto o l'avranno visto ma non hanno bene collocato di cosa stiamo parlando. Gli ISG non sono altro che gli obiettivi macro, che appunto l'ONU si è dato come obiettivo generale da seguire in termini di sostenibilità. Come li portiamo a livello concreto in un'attività di un'azienda? Innanzitutto li portiamo nel nostro bilancio di sostenibilità. Il bilancio di sostenibilità di Mappei, che è pubblico, nel sito interno lo potete tranquillamente consultare, individua esattamente all'interno di quei 17 obiettivi quali, tra quelli, l'azienda, il gruppo, ha intenzione e pensa di poter perseguire in termini di azioni concrete, migliorative, per raggiungere gli obiettivi più di alto livello. Di conseguenza noi come azienda appartenente al gruppo abbiamo delle linee guida da seguire all'interno degli ISG che la casa madre ha individuato. Poi ovviamente avendo noi delle peculiarità come azienda leggermente diverse dal gruppo Mappei abbiamo intrapreso un percorso di sostenibilità anche fatto di obiettivi propri, anche derivanti dalle tipologie di materiali nostri che solo noi nel gruppo Mappei produciamo. Prima ho visto che tra i vari certificati, tra le varie etichette si parlava di EPID. Poi parleremo un attimo anche di questo. Queste sono certificazioni ambientali sempre volontarie che noi come Polyglas abbiamo cominciato a implementare su alcuni nostri prodotti. Ok, allora noi dicevo all'inizio siamo un'azienda manifutoriera, operiamo nel business to business e operiamo nel settore ovviamente delle costruzioni. Quando si parla di sostenibilità diventa fondamentale anche collocare esattamente il concetto e il tema della sostenibilità rispetto al settore in cui si opera, proprio per poter poi essere chiari e soprattutto avere degli obiettivi concreti da portare avanti. Operando nel settore delle costruzioni, giusto due dati, noi siamo di fronte ad uno scenario di una tendenza all'aumentare delle zone delle cosiddette città megalopoli, quindi parliamo di città con più di 10 milioni di abitanti, provate a pensare, oggi ne abbiamo 18, le previsioni parlo di arrivare nel 2030, quindi non fra tanto, ovviamente a livello mondiale, non certamente in Europa ma in altre zone di sviluppo, a più di 40 città megalopoli. In più, qual è il trend di crescita della popolazione? Oggi siamo intorno ai 7 miliardi, se non sbaglio nel 2040, 2050 si parla di arrivare, le stime parlano di più di 10 miliardi di popolazione. Tutto questo fa sì ovviamente che il settore delle costruzioni seguirà questo trend di crescita a supporto della crescita del numero di abitanti e del numero di abitanti per le zone urbane. Cosa comporta questo? Dall'altro dobbiamo tenere presente che il settore delle costruzioni in Europa è responsabile del 36% delle emissioni annuali di CO2, del 40% del consumo di energia e del 50% di estrazione delle materie prime. Quindi voi capite, da un lato abbiamo un trend di crescita delle zone urbane, il settore delle costruzioni è un settore fondamentale per far sì che questo avvenga, però contemporaneamente è anche il settore che può far più la differenza proprio per l'impatto che ha già oggi a livello di emissioni di CO2, di estrazione di materie prime e di consumo di energia. Quindi quale deve essere il ruolo di un'azienda che opera nel settore delle costruzioni come è Polilas? Deve darsi assolutamente un modello di sostenibilità condivisa, come ho sentito dire da qualche collega che mi ha preceduto. Un modello di sostenibilità condivisa per noi vuol dire condivisa con il territorio in cui operiamo, con tutti gli stakeholders. Quando parliamo di stakeholders, parliamo di un'azienda manifatturiera. Chi vi può venire in mente? Fornitori? Che ci azzecca un fornitore in un modello di sostenibilità? Noi possiamo fare un prodotto che è innovativo da un punto di vista sostenibile o sostenibile perché utilizziamo materie prime particolari se i fornitori collaborano con noi proponendoci materiali che possono essere ad esempio riciclati. Devono collaborare con noi però anche nel far sì che questi prodotti siano compatibili con i nostri tipi di materie prime, con i nostri prodotti che siano funzionali all'applicazione dei nostri prodotti. I clienti come fanno a collaborare con noi? Io posso fornire il prodotto migliore di questa terra ma se il mio cliente, lasciamo da parte un attimo l'aspetto economico, se il mio cliente non lo apprezza non tanto per e soltanto i benefici prestazionali ma per quello che ci sta dietro, quindi il fatto che io ti sto proponendo un prodotto sostenibile, io non ho fatto bene al mio lavoro. Noi stiamo spingendo tantissimo ad esempio su dei prodotti leggeri. Pensate a quei rotoli che vi ho fatto vedere, sapete quanto pesa un rotolo? Dai 40 ai 50 kg. Sapete quante persone lo portano sulle spalle quando fanno le realizzazioni delle coperture? Una. Ogni giorno movimentare i rotoli di quel tipo lì. Noi stiamo spingendo tantissimo su formulazioni più leggere in maniera tale che ci prendiamo cura anche della salute dei nostri applicatori, dei nostri clienti. Ovviamente sono formulazioni più costose. Quindi il limite che noi abbiamo tante volte o lo stimolo, l'opportunità che noi abbiamo tante volte è far capire ai nostri clienti. È vero che questo materiale, il materiale leggero ti costa di più, però guarda che beneficio ti riusciamo a dare. Guarda come tu alla fine della giornata lavorativa riesci a stare meglio rispetto a trasportare continuamente i rotoli che hanno quel tipo di peso. Queste sono tutte azioni di un modello di sostenibilità condivisa che come Polyglas e così come facciamo noi… Guarda l'utente della sostenibilità. In che senso? Guarda come fare più, ma guarda. Perché costa di più produrlo. Allora, non costa di più produrlo, perché noi comunque un altro elemento della sostenibilità sicuramente è riuscire comunque a garantire determinati tipi di caratteristiche anche in termini di sostenibilità cercando comunque di rimanere sul mercato. Non è il costo della sostenibilità, secondo me c'è più un discorso proprio di cambio di paradigma, nel senso che banalmente, e abbiamo degli esempi concreti, certi tipi di materiali come quelli che ho citato, leggeri, quindi che rispettano la salute, è vero, che costano un pochino di più. Noi li abbiamo anche realizzati per il settore della rivendita, quindi con delle caratteristiche più, diciamo, meno performanti, diciamo così, e quindi anche con un prezzo più, diciamo, abbordabile. Però ci siamo resi conto che il cliente più sensibile a capire, diciamo, questo prodotto è alla fine l'applicatore, perché è l'applicatore che se lo porta sulla spalla ogni giorno e quindi da subito, anche con la differenza di prezzo, non ha battuto ciglio, cioè nel senso capisce il lavoro che stiamo facendo e, diciamo, l'importanza anche per la salute propria e dei propri operai. In realtà quello che paga, come mi stava chiedendo lei, il cliente finale è invece più un altro tipo di problema, secondo me e secondo noi, è il fatto che molte volte legando il tutto e legando la scelta semplicemente al costo del materiale, non ci si preoccupa di capire, al di là adesso del rispetto della salute dell'operatore, ad esempio se questo prodotto banalmente mi dura nel tempo, perché questo è un altro aspetto che per noi produttori e formulatori, perché in materiali noi abbiamo un centro di ricerca composto da 11 persone, per noi produttori, stavo dicendo, diventa anche sfidante, sempre da un punto di vista della sostenibilità, garantire prodotti che durino il più a lungo possibile, perché? Per un risparmio di costo, ma anche per un risparmio di energia, perché ovviamente ogni volta che tu devi andare a rifare un lavoro, implica alle spalle una filiera produttiva che consuma energia, consuma materie prime e quant'altro. La sfida per noi produttori oggi è di allungare il più possibile il ciclo di vita dell'edificio, per farlo tutti noi produttori, quindi non soltanto chi produce membrani impermeabilizzanti, ma anche altri tipi di materiali, stanno investendo risorse e tempo anche da questo punto di vista. Dopo aver ritiriato su quello che è un po' il nostro modello di sostenibilità, vorrei invece portare, e dopo concludo, qualche esempio virtuoso di investimenti e di scelte che abbiamo fatto, sia in termini di sostenibilità ambientale, perché oggettivamente per noi che operiamo nel settore dell'edilizia è un tema molto critico e importante per quello che abbiamo visto prima, e poi però vi vorrei anche portare degli esempi invece più virtuosi in termini di sostenibilità sociale. Quando parliamo di sostenibilità ambientale, un fattore di interpretazione, di individuazione di quello che è l'impatto ambientale di un prodotto, di un processo, di un'azienda, viene sinteticamente riassunto nella quantità di CO2 che viene emessa, che voi sapete è la quantità di gas che fino a un certo livello è positivo, è inevitabile, ma oltre un certo livello, banalizzo, estremizzo, ma perché vi vedo stanchi per cercare di stringere, oltre un certo livello è inquinante e porta poi a un discorso più grande di surriscaldamento e via dicendo. Noi cosa abbiamo fatto? E questo grazie ovviamente al fatto di appartenere a un gruppo come il gruppo Mappei. Noi da quest'anno abbiamo messo in opera un investimento molto importante che ha voluto dire tempo, risorse, milioni di investimento, abbiamo messo in opera un sistema di generazione di energia elettrica che appunto è il trigeneratore, cioè un sistema dove tu contemporaneamente riesci a produrre energia elettrica, calore, aria e acqua fredda. Qual è l'obiettivo di questo tipo di investimento? L'obiettivo è stato quello innanzitutto di ridurre i costi di energia elettrica, sapendo bene quali sono state anche le nostre bollette negli ultimi anni e quindi portare ad avere una maggiore competitività a livello di costo di prodotto. Dall'altro questo tipo di investimento ci ha consentito di essere completamente autonomi da un punto di vista di consumo di energia e infine abbiamo misurato che rispetto alla nostra produzione prodotta siamo riusciti anche a diminuire l'impatto di footprinting, quindi di quantità di CO2 emessa. Oggi noi stiamo facendo una fotografia di questi risultati raggiunti e ci stiamo creando un percorso fatto di obiettivi e di numeri da raggiungere in termini di riduzione. Passo a un altro esempio virtuoso secondo me di sostenibilità e parlo di sostenibilità sociale, sempre partendo però da un'esigenza e da una necessità operativa aziendale. Non credo che nessuno di voi conosca Manoamica, Manoamica è una cooperativa che ha sede a Vicenza che ha fatto dell'inclusione di persone con vari tipi di disabilità una propria mission. E cosa fa Manoamica? Manoamica mette a disposizione dell'azienda una serie di servizi vendendo il servizio e quindi dando pari dignità alle persone che collaborano all'interno della fondazione a un lavoratore, lasciatemi passare il termine, normale, normodotato. E questo per me è un valore non secondario perché rappresenta anche un momento di inclusione, quindi sempre in termini di sostenibilità, alla quale viene data una dignità pari a qualsiasi altro fornitore. Come azienda ovviamente vorremmo aiutare tutti, però dobbiamo rimanere sul mercato, quindi non è che siamo arrivati alla cooperativa perché sta facendo un lavoro di inclusione o quant'altro, o comunque non è la priorità per noi. Siamo partiti da una esigenza pratica, noi avevamo un problema di confezionamento di prodotti, di alcuni accessori che ci arrivano da diversi fornitori. Il problema è che quando tu vai a consegnare del materiale in un cantiere, non so se siete mai stati in un cantiere, molte volte soprattutto se sono minuterie, pezzi e quant'altro, si rischia di perdere, non erano facilmente identificabili. Pensate che noi poi vendiamo in tutto il mondo, quindi c'era anche un problema di capire il prodotto, l'etichetta, l'informazione. In casa, in azienda non si poteva risolvere questo problema, nel senso che non avevamo tempo e risorse che potevamo dedicare a un confezionamento di questo tipo. Ci siamo rivolti a questa fondazione, ci abbiamo messo più di un anno per poter raggiungere un contratto che potesse seguire i canoni aziendali, un contratto che fosse approvato dalla direzione aziendale e soprattutto abbiamo messo in moto una forma di deposito che non avevamo fino ad allora. Tutto questo ve lo dico perché a volte anche per fare, tra virgolette, del bene non è che venga infatto in maniera spontanea o immediata, a volte bisogna essere tignosi se ci credi in questo tipo di valore, in questo tipo di impegno ed è quello che noi siamo riusciti a portare avanti e a concludere. Oggi noi per una parte di prodotti che forniamo ai nostri clienti, ci avvaliamo di questa cooperativa che avendoci risolto il problema del confezionamento, oggi ci dà la possibilità di aver risolto delle problematiche con i nostri clienti che lamentavano, che non capivano quel materiale, gli arrivava un pezzo sì, un pezzo no, anche la conformazione dei materiali non sempre corrispondeva alla propria esigenza. Noi oggi con questa fondazione abbiamo risolto una serie di problematiche tipiche che avevamo con una tipologia di clienti, in particolare con l'estero e al tempo stesso ci abbiamo dato dentro da un punto di vista di impegno rispetto a una sostenibilità sociale, perché abbiamo garantito che anche queste persone con vario tipo di disabilità possano essere giustamente remunerate e non elemosinate, mi aggiungo io, per il lavoro che svolgono per noi e questo grazie però ad una fondazione che si è impegnata in questo. Questo è un esempio di scatole di confezionamento che ci stanno realizzando. Un altro impegno che portiamo avanti è con un'associazione, un'associazione che è Protection for Kids, tra l'altro è fatta da ragazze molto giovani che hanno sede qua a Castelfranco, che sono venuti a proporci un progetto, un progetto umanitario in Africa, in particolare in Gambia, dove c'è una situazione come potete immaginare di estrema povertà. Quello che mi è piaciuto e che ci è piaciuto è che ci è venuto a proporre un supporto, un aiuto a ricostruire un'area sportiva e delle classi presso una zona specifica del Gambia, perché appunto per la situazione di estrema povertà e di cattiva situazione anche in termini sanitarie c'è la necessità di sostenere localmente la comunità locale. Crediamo che come Polilas e come azienda operante nel settore delle costruzioni abbiamo anche una responsabilità da questo punto di vista, quindi adesso stiamo aiutando questa associazione con dei fondi ovviamente che abbiamo destinato affinché si possa ricostruire una scuola, si possa ricostruire un'area, un centro sportivo e dare dignità anche qua a delle persone che non c'entrano nulla, dei bambini che non c'entrano nulla con le difficoltà che purtroppo riscontrano giorno per giorno. Questo è quello che stiamo facendo, realizzando e portando avanti a livello di sostenibilità sociale all'esterno. Per concludere, quando abbiamo parlato prima di stakeholders, ho citato i fornitori, i clienti, Polilas, le comunità esterne, non ultimo poi ci siamo noi, ci siamo noi dipendenti, ci siamo noi che facciamo parte dell'azienda e che a nostra volta stiamo cercando di portare all'interno anche quelli che sono i propri valori, che quindi stiamo cercando di comunicare all'interno con un house organo, con un giornalino interno dove ogni mese, se non mi ricordo male, un dipendente dell'azienda può proporre o può condividere un progetto sostenibile che si può portare avanti privatamente e lo stiamo diciamo condividendo all'interno dell'azienda. Io ho finito qua, spero di non avervi tediato troppo, ma ripeto per me è importante condividere con voi e sul territorio dove siamo anche come azienda manifatturiera cosa possiamo fare, sia come azienda ma anche come dipendente di, perché il tema sostenibilità è un tema molto ampio ed è difficile perdersi se non si trova un proprio percorso e quello che in questo caso ci ha dato la possibilità, l'azienda, il gruppo e l'attenzione che viene dato al tema sostenibilità è di portare anche come individuo e mi ci metto anch'io i propri valori a disposizione dell'azienda e del modello di sostenibilità condivisa che abbiamo implementato come Polyglass. Vi ringrazio.